Un saluto a tutti i campanari di Youtube, mi trovo a Milano e questo è il Tempio di San Sebastiano. Abbiamo un concerto di tre campane in do se non sbaglio e adesso vi farò ascoltare le suonate per la Santa Messa che sono identiche anche per le messe feriali, Santa Messa festiva ecco, stavo appunto dicendo. E praticamente suonerà il concerto solenne alle ore 17 come segno per il rosario e anche per la messa e invece come ultimo segno alle 17.25 è la distesa della prima e della terza. Questi segnali sia per il rosario come ho già detto ma anche per la messa della seconda domenica dopo l'Epifania perché ricordo siamo in rito ambrosiano e quindi qui si festeggia tale festa, anzi domenica normale se non erro. Bene, a presto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!